Dopo lo stop al super bonus, le imprese chiedono incentivi stabili e di lungo periodo dal settore pubblico, mentre l'Europa approva la direttiva Case Green con l'obiettivo di raggiungere le emissioni zero entro il 2050. Chiamate in causa dunque le imprese artigiane e in particolare quelle del sistema casa. Il commento del responsabile area mercato di Confartigenato Vicenza, Andrea Rossi. È stata recentemente approvata a livello europeo la direttiva cosiddetta Case Green che prevede una risistemazione di tutto il patrimonio edilizio europeo con delle scadenze che sono relativamente ravvicinate perché parliamo del 2050 per arrivare alla neutralità energetica di tutto il patrimonio immobiliare, quindi pubblico e privato. Si tratta di un intervento chiaramente molto importante che guardiamo come Confartigenato Vicenza con interesse in quanto può toccare e può riguardare un numero significativo delle nostre imprese associate perché una parte rilevante di queste appartengono ai settori del sistema della casa, di complementare l'edilizia, degli impianti e dei serramenti, tutti ambiti che chiaramente possono avere a che fare con questa tipologia di interventi. La preoccupazione in questo momento riguarda in particolar modo come questo tipo di interventi sarà incentivata. Usciamo da un'esperienza, quella del Superbonus, che proprio recentemente ha visto un ulteriore intervento normativo che ha destabilizzato un quadro che stava ormai avviandosi alla sua conclusione. L'auspicio in questo caso è quello che, se ci saranno, come tutti speriamo, naturalmente degli incentivi per favorire questo processo di rimodernamento e di efficientamento del patrimonio immobiliare, sia accompagnato da incentivi che potranno avere una intensità di aiuto inferiore rispetto al 110, perché questo naturalmente è quello che anche verosimilmente i conti pubblici consentono, ma allo stesso tempo che abbia una stabilità nel tempo, così che le aziende siano in grado di programmare la propria attività, i propri interventi e anche i cittadini prendere le proprie decisioni. Soprattutto chi abita magari in un condominio dove le decisioni non avvengono in maniera così mediata ma hanno bisogno invece di un processo di adeguamento e di consenso che si sviluppa nel tempo. Il tema di sfondo chiaramente è quello della sostenibilità, tema che per Confartigeno di Vicenza è un tema strategico, abbiamo capito che ormai questa è la direzione che va intrapresa in tutte le filiere produttive, compresa quella della casa e per questo negli ultimi due anni abbiamo attivato l'Abi Impresa Sostenibile che vuole essere un punto di riferimento per le imprese per capire e approfondire le tematiche collegate alla sostenibilità. Quindi per chi avesse necessità di chiarimenti e di informazioni può contattare il nostro ABI Impresa Sostenibile per avere chiarimenti, partecipare alle progettualità che noi mettiamo in campo in termini di webinar oppure di incontri di acculturamento e anche i prossimi laboratori sull'economia circolare che partiranno a breve.